C'era grande attesa per altre firme in questa off-season MLB e le più attese sono arrivate, in particolare nel video di oggi che va a completare quello della settimana scorsa parleremo soprattutto della trade, o meglio, della firma che si è appunto conclusa giusto nella mattinata di ieri statunitense in serata italiana ovvero Trevor Bauer, il free agent più atteso di questa off-season MLB 2021, ha scelto la squadra per l'anno prossimo e non solo perché il giocatore nativo di Los Angeles torna a casa, sponda Dodgers e subito la prima domanda che mi viene da porre a me e anche a voi che guarderete mai questo video è come accidenti facciamo noi delle altre squadre a fermare i Dodgers perché con l'acquisto di Bauer è evidente che la squadra allenata da Dave Roberts cerca evidentemente ancora una volta di ripetersi ad altissimi livelli e magari confermare il titolo in una stagione che a quanto pare sembra essere vera e propria con tutte le partite a disposizione con lo spring training che tra l'altro dovrebbe partire regolarmente senza riduzioni causa pandemia la rotazione con Bauer dei Dodgers è ancora più forte rispetto a quella passata perché al momento non hanno ceduto i lanciatori che hanno fatto quello che hanno fatto nelle World Series e dunque una rotazione dei Dodgers di un certo livello di questo tipo con Bauer in più può sicuramente far paura Trevor Bauer firma un contratto di tre anni con la squadra Los Angelina, campione in carica Trevor Bauer è un nativo di Los Angeles quindi di fatto torna a casa 30 anni per lui ha avuto la miglior stagione della carriera seppur sul campione ridotto proprio l'anno scorso nel 2020 dove appunto ha vinto il Cy Young ovvero il premio riservato al miglior lanciatore di una delle due leghe in questo caso National League considerato che Trevor Bauer lanciava per i sensennati Reds con delle statistiche allucinanti Trevor Bauer ha di fatto da solo portato i sensennati Reds ai playoff poi è vero sono usciti al primo turno al Wild Card Game contro gli Atlanta Braves però la formazione dell'Ohio era dal 2013 che non arrivava ai playoff e dunque era sicuramente il go to guy della formazione che l'ha visto protagonista l'anno scorso Bauer ha diciamo fatto molta melina in questa off-season perché appunto si parlavano di tante squadre che potevano acquisire il giocatore tra cui anche i miei New York Mets e invece alla fine Bauer ha scelto di tornare a casa appunto ai Los Angeles Dodgers come tra l'altro annunciato dallo stesso Trevor Bauer sul suo canale YouTube di cui qui vediamo un frame sicuramente la firma di Bauer è quella più importante di questa off-season 2021 per la MLB è una firma in free agency dunque ha dovuto diciamo accasarsi spontaneamente nella nuova squadra senza bisogno che appunto la squadra che lo prenderà in questo caso i Dodgers abbiano scambiato giocatori come magari vedremo per altre firme al termine di questo video sarà anche una sorta di riassunto su altre 2-3 trade molto interessanti oltre quella di Bauer tornando al nativo di Los Angeles facciamo un ritratto di chi è Bauer appunto è un lanciatore di 30 anni che appunto ha vissuto il momento migliore della carriera prima ovviamente dei Cincinnati Reds a Cleveland dove è arrivato a un passo da vincere le World Series fu quella famosa World Series del 2016 persa contro i Chicago Cubs ma anche quella di Cleveland è una notazione veramente di Cristo con soprattutto Corey Kluber e lui come lanciatori di punta per quanto riguarda invece il contratto che firmerà con i Los Angeles Dodgers lo vediamo qui totale 3 anni di contratto 102 milioni di accordo secondo quello che riporta Mark Frensant di MLB Network ma la cifra che fa più spavento è quella che vi vado a elencare in questo momento ovvero il salario annuale di Bauer perché secondo le fonti sempre di MLB.com Bauer dovrebbe prendere solo 40 milioni nel 2021 e 45 addirittura nel 2022 e ovviamente la considerazione che viene spontanea a fare è la frase successiva ovvero che Bauer sarà il giocatore più pagato come singolo stipendio di tutta la Major League di tutta la storia meglio della Major League sia l'anno prossimo nel 2022 ma soprattutto quest'anno nel 2021 è evidente che le statistiche dell'anno scorso hanno alzato il valore contrattuale di Bauer che dunque si è assicurato un maxi contratto non solo a casa sua ma soprattutto in una squadra che come dicevo può ancora competere per il titolo perché già dal punto di vista offensivo i Dodgers sono da battere se hanno aggiunto anche Bauer alla rotazione dei lanciatori partenti insomma è veramente difficile non pensare alla formazione Los Angelina come favorita per il titolo anche perché basti pensare Claydon Kershaw, Walker Bueller e Trevor Bauer solo loro fanno veramente paura a leggerli ovviamente riconfermano sui livelli della World Series dell'anno scorso peraltro la cosa ancora più interessante da analizzare sul punto di vista delle cifre è che Bauer di fatto con lo stipendio che prende ovvero 40 milioni e anche 45 nel 2022 di fatto vale più lui di alcune squadre della MLB mi vengono in mente i Pittsburgh Pirates e i Baltimore Orioles che di fatto sono in piena rifondazione Bauer ha fatto veramente tanta melina ha fatto attendere molto la sua firma e nel mio piccolo anche me che volevo fare il video sulla firma di Trevor Bauer e finalmente come vediamo dall'immagine di questo articolo che appunto ritrae Bauer con la firma il giocatore nativo di Los Angeles 30 anni va ai Los Angeles Dodgers e torna a casa attenzione a Los Angeles perché potrebbe avere delle chance sulla carta per ripetere il titolo vinto certo nel baseball è difficilissimo ripetersi soprattutto dopo una stagione 2020 molto particolare ma sulla carta questi Los Angeles Dodgers ancora una volta fanno paura e non solo per il monte stipendi faronico ci sono altre trade e altre firme però da segnalare in modo da aggiornare quello che è successo in questa off-season 2021 e anche una volta parliamo dei Toronto Blue Jays perché è un altro dei free agent più attesi seppur magari non sia un nome che rubi tanto l'occhio ha scelto la sua nuova squadra ed è Marcus Simeon un interbase anche lui 30 anni che ha avuto una carriera molto interessante Auckland va a Toronto per in questo caso un contratto annuale fino appunto alla scadenza della stagione 2021 è un interbase molto interessante si è migliorato molto dal punto di vista offensivo mentre quando era arrivato l'inizio nella Lega era specialmente un giocatore difensivo e invece con il migliorare anche di Auckland dal punto di vista offensivo anche Simeon ha migliorato le proprie statistiche è un bel colpo Toronto è una squadra molto interessante che prende un colpo di esperienza considerato che di base tolto George Springer altro grandissimo colpo dei Blue Jays la formazione canadese è prevalentemente una squadra giovane e di talento e molto futuribile un colpo di esperienza soprattutto in quel ruolo l'interbase che è uno dei ruoli cardine del gioco del baseball è sicuramente un acquisto azzeccato per la formazione canadese che secondo me potrebbe ancora una volta sorprendere e io mi auguro che torni ai playoff dopo quelle cavalcate che fecero qualche anno fa con il poker della paura ovvero Medwin Encarnacion Bautista Troy Tullovitsky e anche Josh Donaldson insomma c'erano i due anni 15-16 dove i Toronto Blue Jays erano da battere ed effettivamente nella regular season non li batte nessuno perché vinsero due volte l'American League ai playoff fu un altro discorso qui la politica è diversa però Marcus Simien è un colpo assolutamente interessante peraltro come riportato dal twitter ufficiale di Toronto Blue Jays Simien fu un candidato all'NBP dell'American League nel 2019 quindi di certo non parliamo dell'ultimo arrivato un'altra firma che magari di nome non dirà tanto ma che comunque è interessante è quella di Colton Wong perché il seconda base che è stato cresciuto nei Memphis Redbirds che di fatto è la squadra riserve dei San Luis Cardinals e ha esordito i Major League con i Cardinals facendo una vita proprio nella formazione del Missouri cambio a squadra in un modo anche abbastanza particolare perché come riportato qui dall'articolo di MLB Trade Rumors Colton Wong ha rifiutato l'opzione di squadra di 12 milioni e mezzo per quanto riguarda i Cardinals per fare buyout totale 14 milioni perché è stato aggiunto un milione e mezzo per firmare con un'altra squadra della National League Central ovvero i Milwaukee Brewers che ultimamente erano diciamo dei rivali accreditati per i San Luis Cardinals per quantomeno competere per un posto e playoff Colton Wong è comunque un acquisto interessante per la squadra di Christian Jelic e compagni è un seconda base anche lui 30 anni molto esperto che può giocare in realtà anche in altri ruoli è il cosiddetto utility player ovvero quel giocatore che non può fare soltanto un ruolo sul terreno di gioco ma ne può fare diversi in ogni caso Colton Wong ha la chance di tra virgolette rilanciarsi a Milwaukee con una squadra che sulla carta parte con credenziali di conseguenza è uscito del fatto dal contratto di St. Louis per arrivare a un contratto più vantaggioso perché secondo le fonti che vi riporto qui Wong dovrebbe avere garantiti 18 milioni sulla firma con i Milwaukee Brewers e il club può addirittura esercitare un'osteriore opzione squadra per un totale di 26 milioni che comunque sono di più dei 14 che totale prendeva ai St. Louis Cardinals a proposito di St. Louis Cardinals c'è un'altra in questo caso trade che coinvolge la formazione del Missouri che è vero cede un interno ma ne prende un altro dell'altro grande nome di questo video di tutta l'offseason del 2021 dell'AMLB ovvero St. Louis prende la bandiera dei Colorado Rockies Nolan Arenado il giocatore che è cresciuto di fatto in quella squadra che di fatto era il go-to guy dei Rockies dopo una vita va a cambiare squadra e firma un contratto pluriennale con i St. Louis Cardinals di fatto andando a occupare il posto di terza base titolare questa differenza di tutte le altre firme che avete visto è una trade e non è una firma in free agency anche perché in cambio di Arenado St. Louis ha dato un fottio di prospetti a Colorado e non potrebbe essere altrimenti perché appunto per il giocatore franchigia recente dei Colorado Rockies è tanto se appunto gli stessi Rockies ne hanno chiesto mezza squadra in cambio a St. Louis Arenado è un signor terza base soprattutto dal punto di vista offensivo ma abbiamo visto anche tanti ai Rice nel corso della stagione dove anche difensivamente il numero 28 può fare veramente veramente la differenza è una firma entusiasmante quella di Arenado per quanto riguarda i Cardinals che appunto oltre a Arenado danno anche ricevono anche dei soldi ovviamente per il terza base e danno appunto in cambio una marea di prospetti che vediamo qui il lanciatore mancino Austin Gomber l'interno e l'Euris Montero il lanciatore destro Tony Losey un interno Matteo Gil e un lanciatore destro Jake Somers il contratto nel dettaglio dice che Arenado di fatto ha l'opzione giocatore dopo la stagione 2021 e anche dopo la stagione 2022 oltre alla trattativa ha anche aggiunto un anno ulteriore di espansione del contratto che di base scadrebbe nel 2027 quindi al massimo Arenado potrebbe arrivare fino al 2028 quindi è un contratto assolutamente importante un contratto pluriennale sei anni di contratto a partire da oggi fino appunto al 2027 quando i Cardinals magari con Arenado in campo anche loro possono puntare a vincere il titolo che non vincono da una marea di tempo ed è comunque qualcosa che a sentire si sente perché i Cardinals sono la seconda squadra della storia più titolata di tutta la MLB dopo ovviamente gli Yankees che hanno vinto 27 titoli seconda posizione per i Cardinals ma soltanto a 12 tra virgolette quindi c'è tanto distacco ma i Cardinals non vanno diciamo a competere veramente per i playoff da tantissimo tempo dopo anni di anonimato e rifondazione Arenado potrebbe essere il nuovo go to guide può essere restato per i Colorado Rockies che di fatto non hanno avuto tante fortune se non magari in qualche stagione spot quella St. Louis è una squadra che sa cosa vuol dire andare ai playoff sa cosa vuol dire investire sa cosa vuol dire disegnare un giocatore per arrivare a questo traguardo e chissà magari vincere il titolo e Arenado che qui vediamo inquadrato ha fatto una scelta che dal punto di vista della carriera è molto importante perché Arenado comunque è un giocatore ancora giovane nella maturità agonistica perché ha 29 anni e ovviamente molti giocatori che sono fortissimi e che magari sono le bandiere di alcune franchigie non così tanto competitive o competitive in modo alterno l'abbiamo visto spesso che vanno magari in una squadra un po' più competitiva magari con più tradizione playoff tradizione di postseason per provare a vincere il titolo che tecnicamente meriterebbero per prestazioni offensive e difensive ma la squadra precedente non li ha ovviamente aiutati questo è un colpo molto interessante certo non fa così tanto rumore come Bauer ai Dodgers ma nella classifica del rumorometro se così possiamo chiamarla Arenado i Cardinals va assolutamente al secondo posto è un offseason che ha regalato veramente tantissimi colpi anche nel video della volta scorsa ne ho elencati tanti e sono colpi assolutamente incredibili per un offseason del 2021 che viene dopo una stagione ridotta per pandemia covid-19 recuperate anche le trade e le firme della settimana scorsa perché sono assolutamente interessanti con questo concludiamo un riassunto della offseason MLB 2021 il prossimo video sul canale sportivo arriverà comunque a metà febbraio perché ci sono i mondiali di scinordico di Oberstdorf in Germania arriverà una presentazione ad hoc per quella manifestazione dopodiché con l'arrivo di marzo parleremo ancora una volta di baseball che dovrebbe partire il primo di aprile commenteremo i mondiali di Oberstdorf che finiranno appunto la prima settimana di marzo e inizieremo a parlare di motori perché in primavera almeno la Formula 1 tenterà di partire visto che il 28 di marzo si dovrebbe cominciare in Bahrain la stagione 2021 anche del campionato mondiale di Formula 1 intanto fatemi sapere cosa ne pensate di questo video se vi è piaciuto iscrivetevi e condividete se ancora non l'avete fatto il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video